Che cosa vuoi fare? Torno subito. È vero che i preti non dicono bugie? No, questo non è possibile. Però ne dicono di meno. Questo è vero. Allora se le faccio una domanda, lei mi dirà la verità. Se è possibile te la dirò, certo. È possibile, altro che se è possibile. E se non la dice vuol dire che non vuole. Sentiamo, di che si tratta? I preti hanno quella cosa come gli altri uomini. Di che stai parlando? Del cazzo. Chi ti ha parlato di queste cose? Vuole rispondermi, ce l'hanno o no? Noi siamo come gli altri uomini. E scopati anche come gli altri uomini? Ma tu non devi parlare così. Lei non vuole rispondere. Come apprenderai quando sarai grande? Noi dobbiamo retrimere i nostri desideri. E lo fa anche lei? Sì. Allora lei deve essere un frocio o un impotente. Grazie.